Buongiorno e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento qui a Teleragione. Oggi inizieremo con alcune considerazioni sulle elezioni che si sono tenute nel Regno Unito ed in Francia. Io innanzitutto vorrei ribadire un concetto perché ancora ad oggi molte persone mi scrivono per il riferimento a quella trasmissione che avevo fatto alla società dei retriever, le mie posizioni sull'assenzionismo. Io non ho mai detto nulla a chi non va a votare per stanchezza, anche per sfiducia perché è assolutamente legittimo e comprensibile. Io ce l'ho con quelli che dicono che se non si va a votare il sistema crolla o scemenze di questo tipo. Questo ci tengo a ribadirlo. Mentre quella sfiducia nei confronti dell'elezione, nei confronti delle istituzioni è assolutamente comprensibile e a mio modo di vedere è proprio uno degli effetti della vera e propria operazione psicologica, ma anche un'operazione sul campo perché io non me lo leva dalla testa nessuno che Mani Pulite sia stato un qualcosa di orchestrato oltre manica e oltreoceano per distruggere la classe dirigente italiana. Era una classe dirigente che aveva mille problemi, era sì, corrotta, tutto quello che vogliamo, ma era senza ombra di dubbio una classe dirigente competente, che conosceva benissimo il nostro paese, che conosceva benissimo gli equilibri internazionali e che sapeva perfettamente che determinate scelte avrebbero portato inevitabilmente alla situazione attuale, non solo in Italia ma anche in Europa, quindi quella secondo me è stata un'operazione anche psicologica, ricordate i girotondi, insomma nasce lì l'antipolitica, il libro La Casta di Stella e Rizzo, insomma tutta una serie di bombardamenti sulla coscienza delle persone che hanno fatto sì che si buttasse il bambino con l'acqua a sport. E poi la seconda operazione secondo me è stata quella dei Cinque Stelle che un po' ha dato il colpo definitivo alla fiducia delle persone e oggi veramente lì c'era una grande speranza, c'era un grande sentimento di rinnovamento e dopo la costituzione del partito giallo-verde si pensava veramente che in Italia fosse in atto una rivoluzione, cosa che poi non è stato, anche se per entrare nella fase acuta della dittatura pandemica si è dovuto scalzare il governo politico perché un governo politico non avrebbe mai e poi mai retto quei provvedimenti che si sono presi, quello era solo un governo con un fantoccio della Nato, delle oligarchie al potere che lo guidasse, poteva in qualche modo reggersi e con un militare, tra l'altro anche esso appartenente alla Nato che aveva gestito dei comandi Nato a gestire la struttura più importante che era la struttura commissariale, insomma senza questi due elementi probabilmente nessun governo avrebbe sopravvissuto, quindi il segno è che la politica serve, la politica è fondamentale senza la politica ci sono le autocrazie, ci sono i potentati finanziari, ci sono le oligarchie e infatti questi soggetti hanno fatto di tutto per mettere fuori gioco la politica. La mia bussola, generalmente per orientarmi nell'attualità, è molto semplice, a giro pensare sempre in maniera diametralmente opposta a quello che dicono i cosiddetti organi di informazione ufficiale, quindi per me è semplicissimo. I giornali italiani hanno perso circa 2.4 miliardi su 4.4 miliardi iniziali di euro di ricavi in dieci anni, sono quasi tutti sempre in costante perdita, ciò nonostante ci sono dei benefattori che tengono in piedi questi carrozzoni, pompandoci dentro soldi a perdere e consentendo alle cosiddette grande firme di fare la bella vita, perché insomma a parte quelli che stanno nella sentina dei giornali che scrivono pezzi a 20 euro che potrebbero tranquillamente essere scritti da un'intelligenza artificiale, poi ci sono le grandi firme, anche i loro pezzi potrebbero essere tranquillamente scritti dall'intelligenza artificiale, però questi hanno credibilità presso i benpensanti, noi sappiamo che i benpensanti vogliono avere sempre i pensieri alla moda, anche minoritari, è l'importante che siano di moda, quindi se il pensiero è maggioritario sia maggioritario che minoritario, il benpensante deve sempre avere un pensiero alla moda per assumere le sue pose presso i circoli di riferimento e quindi cosa c'è di meglio che prendere un pensiero alla moda dalle grandi firme, quelli che scrivono sui giornaloni, quelli che vengono citati, in modo tale di far bella figura pur non capendo nulla di nulla quando ci si trova nei circoli che contano. Quindi gli stessi soggetti che licenzierebbero senza pietà donne incinte, avete visto a Davos dove avevano dichiarato guerra le donne incinte, quindi nell'apparato del forum economico a guida di Schwab vessava le donne in gravidanza e quando tornavano al lavoro spesso si trovavano il loro ufficio sbaraccato, ovviamente per loro i figli vanno comprati e non vanno fatti, quindi quelli che licenzierebbero le donne incinte, che licenzierebbero i padri di famiglia con quattro figli a carico che licenzierebbero i disabili se non ci fossero leggi che glielo impedissero e insomma sono gli stessi che si tengono sul groppone dei personaggi come appunto le grandi firme, dei grandi giornali che oramai non legge più nessuno ma che comunque fanno opinione perché poi i loro articoletti circolano sui social, vengono ripresi nelle rassegne stampa e quindi alla fine fanno opinione. Perché tanta generosità? Perché per esempio Agnelli si tiene un Molinari che sta disintegrando il giornale che dirige e come lui moltissimi altri? Perché se Agnelli alza un sopracciglio Molinari tranquillamente manda al macero 100.000 copie del suo giornale, che è quello che ha fatto recentemente perché il suo giornale stava uscendo con un articolo su quale c'era qualcosa di poco gradito. Quindi quando tu hai uno yes man che non ha problemi a mandare al macero 100.000 copie del giornale a quel punto sei anche disposto a buttarci dentro dei soldi. Perché quello che c'è scritto lì sopra ha valore perché è la voce del padrone sostanzialmente. Quindi il padrone ha bisogno di un megafono ha bisogno di un soggetto che certifichi il suo punto di vista sul mondo e a questo servono i giornali i social network e gli influencer servono poi per superdiffondere questi concetti e questi pensieri. Ma anche per noi tutto questo è importante perché appunto uscendo da lì la voce del padrone noi sappiamo che noi per sopravvivere oppure per salvaguardare il nostro livello di benessere perché questi ovviamente ti succhiano il sangue perché come dicono c'è un vecchio detto cinese togli ai poveri hanno poco ma sono in tanti quindi questi mantengono tutto il loro carrozzone sulle nostre spalle. E quindi se noi facciamo esattamente l'opposto di quello che dicono questi soggetti noi di fatto contraddiciamo, veniamo meno ai desiderata del padrone. Quindi questo concetto è stato esplicitato magnificamente nell'ultimo pezzo di Andrea Zoc dove praticamente il succo del discorso è proprio questo, fare l'esatto opposto di quello che dicono o scrivono. Perché lui fa un'analisi, l'articolo di Zoc è stato ripreso integralmente dal sito di Visione TV, io l'ho preso da lì. Sostanzialmente la conclusione alla quale giunge Zoc è che noi ci siamo rovinati facendo esattamente quello che volevano i padroni per voce dei loro mezzi di propaganda. Il titolo eccolo qua, UK e Francia, lezioni dalle elezioni. Allora andiamo a leggere appunto dal sito di Visione TV l'ultimo articolo di Andrea Zoc, eccolo qua, dando un'occhiata comparativa ai risultati elettorali del Regno Unito e della Francia un dato salta gli occhi, ovvero la macroscopica differenza tra l'espressione della volontà popolare in termini di voti percentuali e la distribuzione dei seggi, cioè di potere, nei rispettivi parlamenti. Se guardiamo al Regno Unito dove vige un sistema maggioritario uninominale, vediamo come il Labor Party, chiaro vincitore, sia stato votato da poco più di un terzo dei votanti e se proprio volessimo sottilizzare, visto che sono andati a votare il 60% degli aventi diritto, da un quinto dell'elettorato, quindi circa il 25% dell'elettorato avrà la maggioranza assoluta nel Parlamento inglese. Con questa percentuale il Labor ottiene 407 seggi, cioè quasi i due terzi dei posti in Parlamento. Voi capite perché in Italia ci hanno fatto abbandonare il proporzionale con la scusa della governabilità. Mettiamo dunque in fila i risultati nel Regno Unito. Labor Party 34,2% dei voti, 407 seggi. i Tories 23,6% dei voti, 115 seggi, quindi quasi un quarto. Reforma UK, Nigel Farage, 14,3% dei voti, 4 seggi, cioè con un settimo dei votanti ottiene un centocinquantesimo dei seggi. Lo Scottish National Party 2,4% 8 seggi, i Liberal Democratici 12%, 68 seggi, i Verdi 6,8% 4 seggi. Quindi gettiamo ora per un confronto uno sguardo ai risultati in Francia, dove vige invece un sistema maggioritario uninominale a doppio turno. Qui la forza largamente più votata è stato il l'assemblement national di Marine Le Pen con il 37,05%, seguito dal fronte popolare di Mélenchon con il 25,95% e al terzo posto dal partito del presidente Macron, ensemble con il 24,54%. Tuttavia, pur avendo staccato gli altri due partiti di circa il 12%, RN ottiene solo 143 seggi, 39 seggi meno del secondo arrivato e 25 seggi meno del terzo. In sostanza questo è l'esito elettorale in termini di distribuzione del potere. Il partito di Mélenchon ottiene 182 seggi con il 25,95%, Macron con il 24,54%, 168 seggi, Marine Le Pen con il 37,5%, 143 seggi, quindi meno degli altri due. Ora io vedo oggi molta comprensibile soddisfazione a sinistra tra virgolette per questi esiti elettorali e personalmente, pur non ritenendomi da tempo un elettore di sinistra, apprezzo anch'io quantomeno il buon risultato di Mélenchon all'interno della coalizione di sinistra, partito che ha finora portato avanti un'agenda sociale all'interno e un'agenda equilibrata sul piano della politica estra, cosa che non si può dire affatto per il laborista Keir Starmer in Regno Unito. Ma se solleviamo per un momento il naso dalle nostre inclinazioni, tifoserie e soddisfazioni personali, il dato principale manifestato da queste elezioni, accanto ad altre in Europa, è l'oramai strutturale divergenza tra espressione del voto popolare e distribuzione del potere. Questo è frutto, aggiungo io, scusate, di intromissione di tutte quelle riforme, un passetto alla volta, che sono state fatte negli anni e che tra l'altro stanno cercando di portare a compimento anche in Italia. Nel caso di sistemi elettorali che ci sono stati venduti in tutta Europa nel nome della governabilità, vediamo in modo macroscopico una immediata disconnessione tra l'espressione numerica dell'opinione pubblica e la rappresentanza parlamentare. Ciò può avvenire a causa delle tecnicalità dei sistemi maggioritari o a causa di elevate soglie di sbarramento dei sistemi proporzionali, esempio 5% dei voti validi in Germania. Ma può avvenire anche attraverso l'onerosità delle raccolte firme per accedere alla possibilità di essere votati. Può avvenire per lo spostamento del finanziamento della politica dal finanziamento pubblico a quello privato, come avvenuto ovunque in Europa in questi anni, negli Stati Uniti è sempre stato un affare privato, può avvenire per i differenziali di rappresentanza politica nell'apparato mediatico, può avvenire per la delega dei poteri dei parlamenti nazionali ad entità sovranazionali che non sono espressione del voto popolare, così ad esempio la Commissione Europea della Nato non parliamo neppure. Quindi voi vedete che tutto quello che hanno fatto in questi anni è andato in questa direzione e la propaganda ha lavorato proprio per farci accettare tutte le scelte che ci hanno portato esattamente dove siamo, cioè non avere rappresentanza nelle istituzioni. Ecco, questo discorso mi richiama le parole del Papa l'altro giorno a Trieste. Il Papa parla da lungo della crisi della democrazia. La crisi della democrazia è come un cuore ferito, questo è un virgolettato dalle parole del Papa, ciò che limita la partecipazione sotto i nostri occhi. Se la corruzione e l'illegalità mostrano un cuore infartuato devono preoccupare anche le diverse forme di esclusione sociale. Il perno della democrazia è la partecipazione. La partecipazione non si improvvisa, si impara da ragazzi, da giovani e va allenata. Il compito è di non manipolare la parola democrazia né di deformarla con titoli vuoti di contenuto, capace di giustificare qualsiasi azione. Personalmente non ho titolo a farmi eseggeta privilegiato del pontefice e lascio ai vaticanisti di professione il compito di mettere d'accordo le parole del Papa con la quotidianità che ci circonda, riconducendola alla sonnolenza pubblica e al torpore d'ordinanza. Quindi è noto però che persino il capo di una delle ultime monarchie assolute rimaste sul pianeta, il Vaticano questo è, mostra forti preoccupazioni per la salute di una democrazia che da tempo è solo, appunto, una paroletta vuota capace di giustificare qualsiasi azione. Eppure, aggiungo io, quando ci parlano le democrazie contro le autocrazie, noi siamo la democrazia, cioè la democrazia di fatto è stata svuotata, oramai siamo di fronte al limite, nella migliore delle ipotesi, ad una democratura. E aggiunge Zocca, di fatto è da mezzo secolo che oligarchie transnazionali, accomunate principalmente da un legame diretto con il potere finanziario, lavorano per la demolizione della rappresentanza democratica, demolizione arrivata oramai a livelli terminali e poi dicono che il voto non serve, hanno fatto di tutto per svuotare il voto di qualsiasi significato, perché il voto è il loro problema principale, è l'unica criticità di questo sistema. Loro attraverso mille, diciamo, sistemi di controllo e di regolazione orientano il voto, però per loro quello è sempre un momento critico, è sempre un momento di preoccupazione. È vero, la propaganda funziona, è vero, oramai i sistemi elettorali, poi adesso arriveremo più o meno tutti verso il voto elettronico e lì è finita e l'abbiamo visto con le elezioni statunitensi, lì è proprio finita perché lì puoi fare veramente il bello e il cattivo tempo, però ancora oggi loro hanno questo minimo di criticità e noi teoricamente, anziché andare avanti nella follia che ci stanno proponendo, noi dovremmo fare marcia indietro, quindi quello che dicevo all'inizio, fare l'esatto opposto, cioè ritornare su un sistema pre-mani pulite, perché quello era l'unico sistema che in qualche modo garantiva la vera rappresentanza popolare. La battaglia è stata condotta innanzitutto sul piano culturale, continua Zoc, spiegando passo passo, centimetro per centimetro, come tutto ciò che odorava anche lontanamente di democrazia reale andava espunto, sempre con una buona ragione, ovviamente con un'ottimissima e insuperabile ragione pompata obbedientemente dai giornali. E qui ritorniamo al discorso iniziale. Il sistema proporzionale è in governabilità, ci hanno detto. Il finanziamento pubblico alla politica è privilegio della casta, l'attenzione ai bisogni popolari è populismo, le preferenze elettorali sono corruzione, il governo dei tecnici è l'espressione autentica del Paese a prescindere dalle pinzillacchere del voto. E lo vuole l'Europa, e lo vuole la Nato, e lo vogliono i mercati. Pian pianino sono riusciti a convincere tutti che oligarchie finanziarie opache e imperscrutabili sono l'unica democrazia autentica. E qui ritorniamo alla puntata su Pasolini. La mia patria è multinazionale, cioè abbiamo sostituito le multinazionali all'istituzione e i benpensanti ci facevano sempre il sorrisino. Quando noi facciamo questi discorsi c'era il benpensante che ti guardava con aria di sufficienza come dire guarda questo povero imbecille cosa dice. E infatti passetto passetto di pensiero indotto, a pensiero indotto siamo arrivati alla situazione attuale. Voglio perciò concludere a titolo di memento una citazione dell'articolo sul fascismo redatto da Gentile e Mussolini per l'enciclopedia italiana nel 1932. Virgolettato. Il fascismo è contro la democrazia che ragguaia il popolo al maggior numero abbassandolo al livello dei più, ma è la forma più schietta di democrazia se il popolo è concepito, come deve essere, qualitativamente e non quantitativamente, come l'idea più potente perché più morale, più coerente, più vera che nel popolo si attua quale coscienza e volontà di pochi, anzi di uno, e quale ideale tende ad attuarsi nella coscienza e volontà di tutti. Ecco, conclude Andrea Zocke, almeno i fascisti veri lo dicevano con stile, mentre questi altri te la impapocchiano utilizzando i loro giornali e tu come uno zombie, come un soggetto mesmerizzato, piano piano ti incammini e fai esattamente quello che loro si aspettano che tu faccia, dici esattamente quello che loro si aspettano che tu dica. Pungente come al solito, sempre riguarda le elezioni, è anche l'editoriale di Travaglio di oggi, che fa un'ottima sintesi del risultato francese nel suo ultimo editoriale appunto per il Fatto Quotidiano. Ecco qui, il titolo è La Nato lava più bianco. Andiamo a leggere, gli esperti che scambiano i loro desideri per la realtà e viceversa si stanno superando. Dicono che quel genio di Macron ha vinto con la mossa del cavallo di sciogliere l'Assemblea Nazionale dopo la debacle delle europee, quindi siccome ha quasi dimezzato i seggi del suo partito, da 170 a 99, e falcidiato gli alleati, che sono passati da 81 a 59, il suo obiettivo era martellarsi i coglioni per perdere la maggioranza assoluta, eppure quella relativa. Ma il diabolico piano del piccolo Napoleone includeva anche il record di consensi ai due acerrimi nemici che vogliono radere al suolo tutto ciò che ha fatto. La Le Pen del Rassemblement National, divenuto il primo partito all'Assemblea, basando da 88 a 125 seggi, più un destro sfuso e i 17 repubblicani ribelli 18, totale 143, e Melenchon, trascinatore del fronte popolare, che ora ha la maggioranza relativa a 184 seggi, qui fa una rassegna dei vari voti presi dal raggruppamento elettorale di Melenchon. Quindi capite bene di quale genio stiamo parlando? E andiamo avanti. Uno che per impapocchiare un governo dovrà tenere fuori i leader della prima coalizione, quindi Melenchon, e del primo partito, la Le Pen, ma soprattutto i loro elettori, con rischio di non combinare nulla, scontentare tutti e regalare l'Eliseo nel 2027, o prima a uno dei suoi due nemici. Ma chi vota è una variabile indipendente per gli esperti onanisti, chiusi nelle loro stanzette a giocarsi a risico il governo francese. Infatti hanno già smesso di esultare per lo scampato fascismo e iniziato a insultare Melenchon perché ha preso troppi voti antifascisti e disturba le loro pippe. Il loro vero discrimine non è mai stato tra fascismo e antifascismo, di cui si infischiano, ma fra bellicismo, lo chiamano atlantismo, e pacifismo, lo chiamano putinismo. La Le Pen non li allarmava perché è fascista, gli atlantisti adorano da sempre i neofascisti, vedi i golpi in Sud America, in Grecia, le stragi nere, il battaglione Azov, purché siano dalla parte giusta, ma criticano la Le Pen perché contesta la Nato. Infatti detestano con pari odio l'antifame Melenchon perché critica la Nato e vuole pure ridurre le disuguaglianze anziché aggravarle come Macron. Quindi a loro non interessa veramente il discrimine tra fascismo e antifascismo, è del tutto strumentale. Il discrimine è essere pro o contro il mondo anglosassone, essere pro o contro la Nato, essere pro o contro l'Europa, che di fatto è l'organismo legislativo della Nato. E questo è il vero discrimine. Chi va in un senso è un nemico, chi va nell'altro senso è un amico e guarda la Meloni infatti come gli piace. Andiamo avanti con, lo confessano con commovente impudenza, i BB e Bibo delle Stone Trooppen, Franco sul Corriere e Folli sul Repubblica. Allarmatissimi che qualcuno confonda Meloni e Le Pen. La prima è buona perché sta con Kiev e Washington, anzi ora dovrebbe suicidarsi alleandosi col Partito Popolare Europeo. La seconda è cattiva perché è filorussa e non si decide a fare l'evoluzione atlantica, cioè a diventare Macron o meglio diventare Meloni. Entrambe potrebbero pure indossare la divisa delle SS e marciare al passo dell'Oga, purché in direzione della Nato, che è come il DASH, lava così bianco che più bianco non si può. Ora voi capite, e qui torniamo al discorso iniziale perché si tengono i vari Massimo Franco, i vari Folli, perché sono quelli che producono il pensiero dominante, sono i ventriloqui del padrone e il padrone di Massimo Franco e Stefani Folli, di Editoriale e Editoriale, e ci hanno portato esattamente dove volevano che noi finissimo. Sempre in merito alle elezioni c'è un'interessante analisi fatta da piccole note, eccola qua, Regno Unito si torna ai nefasti di Tony Blair. La vittoria del partito laburista ripulito dalla sinistra che faceva riferimento a Jeremy Corbyn, ripercussioni sull'altra sponda dell'Atlantico. E qui si fa una corretta radiografia del nuovo premier britannico. Vittoria annunciata nel partito laburista nel Regno Unito con i media mainstream che rilanciano avvalanga la notizia fingendo sorpresa per la massa di voti che ha tirato. Un modo come un altro per rivendicare il trionfo dell'establishment, trionfo che nel caso specifico era molto più che scontato dall'assenza di competitor di Keir Starmer. In questi anni il nuovo premier ha lavorato duramente per ripulire il partito laburista dalla sinistra che faceva riferimento a Corbyn, deviandolo verso lì di più che graditi all'establishment, come spiegava West Streeting, esponente del nuovo labur, in un intervento a un convegno della Fabian Society, uno dei circoli più influenti del pianeta. Insomma, con l'incornazione di Starmer giunge a compimento la rivoluzione avviata da Tony Blair, il primo a realizzare la totale subordinazione del partito laburista britannico alla grande finanza e all'asse liberal neocon americano. E come Blair fu portato al potere nel 97 tramite un'elezione anticipata dall'esito scontato. La dinamica si è ripetuta ieri, certi ambiti non hanno molta fantasia. Un parallelismo che si rifletta anche nei numeri, 418 seggi conquistati allora da Blair, 412 quelli ottenuti da Starmer. La vittoria laburista dovrebbe negli auspici dei suoi sponsor internazionali rilanciare il cosiddetto progressismo di rito anglosassone, cioè dovrebbe conferire nuovo slancio al barcollante partito democratico americano e favorirne la vittoria alle prossime presidenziali. Noi a tale proposito, a piccole note, si permettono di sottolineare l'importanza della data delle votazioni, ben sapendo quanto le date siano importanti nelle funnisterie simboliste di certe élite. Così come le elezioni anticipate che portarono al trionfo del partito laburista guidato per la prima volta da Blair furono fissate per il primo maggio, festa dei lavoratori, infatti ai lavoratori gli hanno fatto proprio la festa, quelle che hanno fatto trionfare Starmer sono state fissate per il 4 luglio, cioè l'Independence Day degli Stati Uniti. Quindi forse dietro queste date ci sono dei messaggi subliminali, ma per vincere anche in America i circoli anglosassoni di rico antico e accettato hanno bisogno di un cambio di cavallo dal momento che il bolso eserescente Biden non sembra avere alcuna speranza. E non è un caso che proprio la più prestigiosa rivista britannica The Economist abbia pubblicato uno scritto dal titolo Perché Biden deve ritirarsi che suona un po' come un ultimatum, anche se Biden sembra voler resistere a tutti i costi. Questa è la conclusione dell'articolo. Il rinnovamento dell'America deve iniziare ora. Non potrebbe esserci modo migliore che scegliere un nuovo candidato per sconfiggere Trump. Biden resiste, ma le pressioni perché receta aumentano giorno dopo giorno sia all'interno del partito che nel variegato ambito dei munifici finanziatori dello stesso. Ovviamente, come dicevamo prima, negli Stati Uniti la politica è una roba privata, contano soltanto i grandi finanziatori, le grandi famiglie. Una lotta all'ultimo sangue, quella del vecchio Presidente in cui si gioca tuttanto dei destini del mondo. Trump lo sa perfettamente, tanto che nonostante le ovvie critiche alzo zero, non manca di far trapellare la speranza che sia ancora Biden e il suo competitor. Come è avvenuto ieri, quando al fare gli auguri di rito agli americani ha voluto aggiungervi, ieri riferito al 4 luglio, ha voluto aggiungervi anche il nostro incapace Presidente, da notare che ultimamente non insiste nel chiamarlo Sleepy Joe, come faceva in maniera ossessiva in precedenza. Sta cercando cioè di evitare di battere sulla demenza incipiente dell'avversario, sulla quale invece insistono quanti vogliono un altro candidato. È evidente oramai che per Trump Biden è il candidato ideale, altri candidati rischierebbero di impensierire la sua rielezione. Inutile dire che se riuscisse la manovra americana, Starmer, che ha sostenuto la macelleria di Gaza e la guerra per procura alla Russia fino all'ultimo ucraino, rinnoverebbe i fasti del blerismo che regalò al mondo l'invasione irachena, unendosi al forcing su George W. Bush perché procedesse, ed altre avventure dello stesso nefasto tenore. Resta da vedere se tra i 412 eletti nel partito laborista vi siano ancora politici sopravvissuti alla purga di Starmer, i quali potrebbero vedere in Corbyn, eletto come indipendente contro il suo partito ma con voti laboristi, un faro alternativo al loro leader. Come anche da vedere cosa combinerà Nigel Farage, il nocchiero della Brexit, il quale per la prima volta siede in Parlamento. Nell'assise può disporre solo di una pattuglia di eletti del suo Reformi UK, ma l'uomo sa sparigliare, dote che in politica ha comunque un suo valore. Quindi questo è l'articolo di piccole note, molto sintetico ma molto interessante, circa le elezioni in Gran Bretagna, in Regno Unito, ma questo articolo mi introduce perfettamente quest'altro articolo di Kate Woods tradotto per noi dal canale Giubbe Rosse. È un articolo veramente interessante perché è un po' il succo di quanto detto finora, vale a dire proprio fin dall'inizio di questa trasmissione, c'è dello svuotamento di significato delle democrazie per arrivare a una sorta di oligarchia con veste democratica. Tutto questo è perfettamente rappresentato dalla parabola che si è vista nel Regno Unito e che ben è rappresentata in questo articolo. Quindi sebbene la vittoria schiacciante del New Labor di Tony Blair nel 1997 potesse sembrare un ritorno al modello di socialdemocrazia europea che la Gran Bretagna aveva esemplificato dopo la Seconda Guerra Mondiale, la terza via di Blair ha piuttosto rappresentato l'abbraccio del neoliberismo da parte della sinistra dell'establishment, ben riassunto dalla dichiarazione del loro portavoce Peter Mendelssohn, secondo cui, virgolettato, ora siamo tutti tacceristi. Sotto la guida del Partito Conservatore e del New Labor, la Gran Bretagna è passata da una tradizionale potenza industriale e manifatturiera a un'economia di rentier. Rentier è tradotto letteralmente coloro che vivono di rendita sostanzialmente, altamente finanziarizzata. Gli effetti sono stati profondi. Andiamo avanti. Il britannico medio sta molto peggio e intere regioni sono state trascurate, mentre Londra è divenuta un centro in piena espansione della finanza internazionale. Il Regno Unito è stato denazionalizzato da decenni di immigrazione di massa e di una sinistra culturale ed è diventato il primo esempio di anarcho-tirannia, dove lo Stato punisce con estrema severità i reati minori e gli atti di dissenso contro il consenso liberale, mentre nelle grandi città la criminalità grave è completamente fuori controllo. È il modello verso il quale noi tutti stiamo progressivamente tendendo. La trasformazione fondamentale dell'economia britannica a partire dagli anni Ottanta è il passaggio da un'economia che produceva cose a un'economia che produce denaro. Fino ad allora la potenza economica della Gran Bretagna era stata incentrata sull'industria manifatturiera. La Gran Bretagna è stata il luogo di nascita della rivoluzione industriale e la duplice espansione sia dell'impero coloniale che i rapidi progressi dell'ingegneria hanno permesso la creazione di una vasta rete commerciale in cui le colonie fornivano le materie prime e al contempo i mercati per la produzione britannica. Le città del nord dell'Inghilterra come Manchester, Sheffield e Newcastle divennero centri di produzione al servizio del mondo. La Gran Bretagna è passata da un capitalismo imprenditoriale a un capitalismo dei rentier, un sistema economico organizzato attorno a beni che generano un reddito ovviamente passivo. In sostanza la Gran Bretagna da produttore si è trasformato in parassita. In questo sistema la proprietà di beni scarsi e ricercati, terra, risorse naturali, proprietà intellettuale, è la fonte di una parte significativa dell'attività economica. Il sistema è dominato dai rentier più ricchi. La ricchezza si costruisce intorno all'avere piuttosto che al fare. Nel suo libro Rentier Capitalism, il geografo economico Brett Christophers, ha dimostrato che gli effetti principali delle riforme dell'era Thatcher sono stati quelli di aprire ai rentier nuovi flussi di reddito che hanno avuto pochi o nessun effetto produttivo. In pratica, qui aggiungo io, quelli che hanno fatto i soldi con la produzione industriale e hanno disegnato un mondo funzionale alla loro produzione industriale, ora praticamente hanno disegnato un mondo all'utilizzo dei capitali che hanno accumulato durante la rivoluzione industriale. Praticamente sono sempre loro i designer del mondo e del sistema economico. Da allora, ricomincio la lettura, il modello è stato quello di privilegiare l'accumulazione da parte dei rentier rispetto all'investimento in attività economiche produttive. La quota del PIL britannico proveniente dal settore in manufatturiera era 32% nel 1973, oggi è inferiore al 9%. Oggi il Regno Unito produce molto denaro, ma non molto altro. Quindi, sin dal primo governo Thatcher, una serie di sviluppi ha potenziato i rentier e tolto potere agli affittuali. Seguendo le prescrizioni monetariste della Scuola Economica di Chicago, il governo Thatcher ha privatizzato grandi quantità di beni pubblici e ha deregolamentato i mercati finanziari, consentendo una massiccia crescita del credito fruttifero, il debito delle famiglie nel frattempo è aumentato dal 37 al 70% del PIL sotto la Thatcher, le grandi scoperte di petrolio e gas nel mare del nord britannico, così come l'emergere di nuove tecnologie e piattaforme digitali in grado di generare rendita, hanno portato all'incremento dei portafogli dei rentier, che sono quelli che oggi tra l'altro promuovono le politiche green, hanno fatto i soldi col petrolio nel mare del nord. I governi che si sono succeduti hanno modificato la politica fiscale per favorire i rentier. Ad esempio nel 2016 il governo conservatore ha introdotto il patent box, che ha permesso alle aziende di pagare un'imposta sulle società sostanzialmente più bassa, pari solo al 10%, sui profitti ottenuti dalla proprietà intellettuale. Praticamente si disegnano le regole per loro stessi. A beneficiarne sono stati soprattutto i colossi aziendali come GlaxoSmithKline, azienda farmaceutica britannica, che ha dichiarato che questo cambiamento l'ha permesso di tenere per se stessa 458 milioni di sterline in più all'anno. Poi dopo se la pigliano con l'idraulico che evade il fisco. Il Regno Unito è stato anche il primo governo a fare da prevista ai partenariati pubblico-privati, che qui diseguita breveremo con PPP. In base ai quali i servizi e le infrastrutture pubbliche vengono affidati a società private per la riscossione dei canoni di locazione, anche se gran parte del rischio finanziario rimane a carico dello Stato. Questi schemi PPP non solo hanno portato a enormi guadagni per la società private che li gestiscono, ma hanno dimostrato più volte di costare al governo più che se finanziasse direttamente i progetti pubblici. Non solo, ma gran parte di questa gigantesca estrazione di rendite dal Tesoro Britannico a favore della finanza privata viene delocalizzata ed evita la tassazione. Nel 2011 la Commissione per i Conti Pubblici del Regno Unito ha riferito che gli investitori stavano estraendo enormi profitti dai contribuenti britannici acquistando contratti per scuole e ospedali finanziati tramite PPP e portando i proventi all'estero. La Commissione ha riferito che molti appaltatori di questa AAAP hanno sede in paradisi fiscali offshore mettendo in ridicolo l'assunto del Tesoro Britannico secondo cui questi appaltatori sarebbero stati d'aiuto per l'economia britannica pagando le tasse. Sì, certo. Come no? Il governo Thatcher ha anche concesso condizioni estremamente generose alle compagnie petrolifere che estraevano il petrolio nel mare del nord britannico. La scoperta di abbondanti riserve di petrolio e gas nel mare del nord può avere il merito di aver finanziato il boom economico degli anni 80 contribuendo a mascherare la contrazione che in quel periodo si stava verificando nell'economia reale. Ma mentre paesi come la Norvegia hanno usato i redditi delle grandi scoperte petroliferi in investimenti a lungo termine come i fondi sovrani, il governo della Thatcher li ha utilizzati per finanziare tagli alle liquide più alte dell'imposta sul reddito. Un economista ha stimato che se il 3% del reddito nazionale generato dalla estrazione di petrolio e gas fosse stato investito in attività ultrasicure, nel 2008 avrebbe avuto un valore prudenziale di 450 miliardi di sterline. Invece questo denaro è stato utilizzato per finanziare una grande distribuzione di denaro a favore dei più ricchi della società britannica, gran parte del quale è stato poi nuovamente investito in attività immobiliari e utilizzato per gonfiare quel solo mercato, anziché stimolare una reale crescita economica. La privatizzazione, la deregolamentazione e la finanziarizzazione hanno portato la Gran Bretagna a diventare secondo le parole del Financial Times un paradiso dei rentier, quindi ricchi che diventano sempre più ricchi, che si scrivono le regole, che accumulano sempre più potere, che manipolano le opinioni pubbliche per far sì che il loro potere vengano perpetuato, anzi diventi sempre maggiore. Nel frattempo questa trasformazione, l'enorme trasferimento di ricchezza che ha comportato sono stati sovvenzionati dai cittadini britannici, la maggior parte dei quali ha visto un tenore di vita in calo o stagnante per decenni. Il Regno Unito è un regime di rentier, tutte le politiche condotte a partire dagli anni Ottanta possono essere intese come favorevole ai rentier, quindi alla rendita, anche e spesso a spese dell'interesse nazionale. Quindi sostanzialmente i due partiti principali che si contengono il potere nell'Occidente cosiddetto allargato sono partiti fatti ad immagine e somiglianza di chi possiede rendite. Londra è stata storicamente la sede della finanza e del governo britannico, ma sotto la Thatcher l'economia finanziarizzata ha iniziato a sganciarsi sempre più dall'economia tradizionale. E qui aggiungo io, l'economia tradizionale non ha più oggi rappresentanza nella politica. In Italia ne aveva un poco ancora nella Lega, ma anche lì è andato tutto, invece è stato travasato nel partito della Meloni che è anch'esso un partito delle rendite, diventando al contempo la forza trainante della crescita economica del nuovo modello. I livelli più alti del governo britannico e la Banca d'Inghilterra si trovarono a servire sempre più gli interessi dell'elite finanziaria londinese. Il nuovo modello adottato dalla Gran Bretagna era molto influenzato da persone con un'esperienza dei mercati finanziari. Sapevano molto della City e dei mercati dei capitali, ma relativamente poco delle industrie manifatturiere e regionali. Per loro i mercati riguardavano solo le transazioni, non la produzione, il lavoro o i materiali. Per loro l'industria faceva parte di uno spazio estraneo che stava invecchiando. Il loro nuovo mondo era la finanza. A Londra, oltre a consentire la crescita dei servizi finanziari, la deregumentazione dei successivi governi Thatcher e Blair ha reso la città un enorme centro di speculazione. Gli immobili londinesi sono diventati per le elite mondiali un bene particolarmente popolare su cui speculare. Nel 2015 è stato riferito che gli acquirenti non residenti nei sei anni precedenti hanno speso oltre 100 miliardi di sterline in immobili nel Regno Unito. Gli acquirenti stranieri rappresentano oggi il 41% dell'attività sul mercato immobiliare londinesi. Molte delle proprietà residenziali di alto livello acquistate dagli oligarchi sono lasciate vuote. A Londra ci sono oltre 34 mila case classificate come sfitte a lungo termine. Sapendo che Londra è un centro finanziario in piena espansione e la principale destinazione dei super ricchi nel mondo, si potrebbe pensare che questo sia un bene assoluto per l'economia del Regno Unito, ma è evidente che il centro finanziario di Londra è diventato un buco nero per il resto della Gran Bretagna e per la sua economia più tradizionale. Era opinione diffusa tra i riformatori neoliberisti che una crescita del settore finanziario avrebbe portato benefici ad altri settori dell'economia. Non solo più denaro per flutto alla ricerca di opportunità di investimento, ma un settore finanziario più ampio significa più conoscenza in circolazione sui mercati, che studia mercati più efficienti e quindi investimenti più efficaci. Dopo il crollo finanziario del 2008 si è appreso molto che mette in discussione queste ipotesi. Uno studio del 2015 della Banca dei Regolamenti Internazionali ha concluso che la crescita del sistema finanziario di un paese è un freno alla crescita della produttività. Vale a dire una crescita più elevata nel settore finanziario riduce la crescita reale. In altre parole i boom finanziari non sono in generale un fattore di crescita, probabilmente perché il settore finanziario compete per le risorse con il resto dell'economia. E quindi nel 2018 un trio di economisti ha provato a quantificare il costo di questa maledizione finanziaria. Hanno concluso che in un periodo di solo i 20 anni, dal 1995 al 2015, l'eccessiva finanziarizzazione costa dall'economia del Regno Unito 4,5 trilioni di sterline in crescita non realizzata. La deregulation ha anche consentito al Regno Unito di diventare un centro globale per le frodi finanziarie. È di fatto un paradiso fiscale o anche un paese pirata. Un rapporto del 2016 ha stimato che le frodi finanziarie costano al Regno Unito 193 miliardi di sterline all'anno, più dell'intero bilancio del National Health Service. Margaret Hodge, ex capo del Public Accounts Committee nel Regno Unito, ha definito la Gran Bretagna come il paese di scelta per ogni kleptocrate, tuffatore e despota del mondo. In un caso di alto profilo che ha dimostrato questo ruolo che attualmente Londra svolge, la città era al centro di un massiccio schema di riciclaggio di denaro russo, in cui gli insider russi hanno riciclato fino a 80 miliardi di dollari in denaro sporco, facendolo passare attraverso società fittizie registrate a Londra. La City di Londra, il distretto finanziario deregolamentato e semi-indipendente di Londra, è anche al centro dell'economia mondiale della Shadow Banking, che si stima rappresenti la metà delle attività mondiali. La Gran Bretagna ha creato a partire dagli anni 50 un ecosistema finanziario profondamente complesso che sfrutta giurisdizioni britanniche offshore deregolamentate come le isole Cayman e Jersey, che consentono ai superricchi del mondo di nascondere la propria ricchezza e le proprie attività commerciali da tasse e regole. Però ti dicono che ci serve la valuta digitale per evitare l'evasione fiscale, mentre questi i soldi nei paradisi fiscali li hanno portati con le navi, secondo loro. In realtà le valute digitali e tutto ciò che è digitale facilita l'evasione fiscale, quella legittima, perché lì i soldi non ci arrivano con le navi cariche di bigliettoni, ma ci arrivano con un semplice click. La deregolamentazione da parte del governo britannico del mercato dell'euro-dollaro, del trading offshore, fatta consapevolmente in un periodo di declino coloniale britannico per cercare di mantenere il potere finanziario del paese, ha permesso alla City di Londra di diventare il principale centro nevragico del più oscuro sistema offshore globale che nasconde e custodisce la ricchezza rubata del mondo. La City di Londra trae quindi vantaggio dal privare il mondo di centinaia di miliardi di dollari in tasse e vase e dall'agevolare frodi e inganni su larga scala, mentre l'evasione fiscale del piccolo era tutta ricchezza che rimaneva sul territorio. Quella che vedete adesso è la copertina della tela del ragno, il secondo impero britannico. Questo è un bellissimo documentario che potete guardare tranquillamente su YouTube, dura un'ora e 18 minuti e vi spiega per filo e per segno come l'Inghilterra, l'impero britannico sia crollato ma in realtà non sia crollato ma si sia semplicemente dematerializzato, nel senso continuano a tirare le file del mondo senza l'onere di avere un impero fisico, senza l'onere di avere le fabbriche. Loro praticamente governano il mondo semplicemente con la finanza e con i paradisi offshore, dove si stima qua nel documentario sono conservate circa la metà delle ricchezze nascoste del pianeta e attraverso la possibilità di influenza, attraverso la possibilità di scriversi le regole, oggi controllano di fatto tutto il mondo. Andiamo a leggere la descrizione di questo documentario. La terra del ragno, il secondo impero britannico, è un film documentario che illustra come la Gran Bretagna si sia trasformata da potenza coloniale in potenza finanziaria globale. Con il declino dell'impero, gli interessi finanziari della City di Londra crearono una rete di giurisdizioni segrete per attrarre ricchezze da ogni parte del mondo e nasconderla in una rete di isole offshore. Oggi, oltre la metà della ricchezza offshore potrebbe trovarsi occultata in queste giurisdizioni, cosa che rende la Gran Bretagna uno tra i maggiori protagonisti della finanza mondiale. Come si è realizzato tutto questo fenomeno e qual è il suo impatto nel mondo di oggi? La risposta a queste domande ha dato vita al documentario La terra del ragno, che io vi invito caldamente a vedere. Degli stessi autori, anche i principi dello Yen. Solo il potere occulto è un potere duraturo. Questo qui è stato realizzato dagli stessi autori della tela del ragno. Andiamo a leggere la descrizione di questo documentario. I principi dello Yen è un film sul potere delle banche centrali. Il documentario illustra la trasformazione della società giapponese al fine di conformarla agli interessi di potenti gruppi di potere e come i cittadini siano stati tenuti all'oscuro di tali operazioni. Giappone, come l'Italia, è un paese che ha perso la seconda guerra mondiale e si è prestato a importanti laboratori politico-finanziari. Il film si basa sul libro del professor Richard Werner, che è stato ricercatore e ospite presso la Banca del Giappone durante gli anni 90, periodo in cui il mercato azionario crollò dell'80%, i prezzi degli immobili dell'84% e documenta come la Banca del Giappone inflazionò l'economia giapponese, come ne provocò il crollo, con l'intento di forzare cambiamenti strutturali. Quello che successe 25 anni fa in Giappone si stava verificando oggi in Europa con lo scopo di centralizzare il potere nell'eurozona. Il film dimostra l'importanza di rendere le banche centrali perseguibili e trasparenti. Spiega anche come certe organizzazioni finanziarie internazionali, come il Fondo Monetario Internazionale, si adoperino per imporre ad altre nazioni le condizioni favorevoli ai paesi occidentali dominanti. Andiamo avanti con la lettura di questa descrizione. I principi dello Yen mette chiaramente a nudo gli strumenti di controllo utilizzati dall'ideologia dominante nel XXI secolo. La realtà viene scomposta negli elementi costituenti che rivelano il mondo così com'è e non come coloro che detengono il potere vorrebbero farci credere che sia. Qui si ripete il sottotitolo del documentario, solo il potere occulto è un potere duraturo, che è un po' quello che diceva Bernays quando diceva il governo invisibile, che il mondo è governato da soggetti dei quali la maggior parte delle persone non conosce neanche la faccia. Passiamo a questo punto, chiudiamo il capitolo riguardante le elezioni, la Francia e la Gran Bretagna e diciamo due parole sul vertice Nato di Washington che si è aperto ieri. Eccolo qua, l'articolo è un articolo del Fatto Quotidiano e parla del dono della Meloni alla Nato. Ecco un miliardo in più per le armi a contentare Donald Trump. Andiamo a leggere. L'impegno non è ancora scritto sulla carta ma la volontà politica c'è dopo settimane di lavoro tra Palazzo Chigi e il Ministero della Difesa al vertice Nato di Washington che si è aperto ieri sera. La Premier Giorgia Meloni porterà l'impegno dell'Italia di tornare ad aumentare le spese militari dopo anni di taglio nello specifico, spendere 800 milioni in più nel 2024, un modo per avvicinarsi seppur lentamente a quel 2% del PIB previsto dall'impegno di Newport in Galles. Il governo Draghi si era impegnato ad arrivare a quella cifra, circa 38 miliardi annui in valore assoluto entro il 2028, ma Meloni si è trovata ad agire in una fase di ristrettezze economiche dovute alle guerre e quest'anno il nuovo patto di stabilità rischia di portare a ulteriori tagli in legge di bilancio. Un primo gruzzoletto però sarà trovato per le spese militari. L'impegno è quello di aumentare gli investimenti dall'1,46% del PIL all'1,53% per quest'anno. Quindi tanti tanti bei soldini in armi. Vi ricordate quando vi dicevano il buon padre di famiglia che deve risparmiare, non ci sono i soldi, dove sono le coperture eccetera eccetera. Poi quando si tratta di comprare vaccini, quando si tratta di comprare tamponi, quando si tratta di armi, i soldi si trovano presto e subito, ma dovranno ancora essere trovate le coperture e si stanno cercando altri soldi per aumentare questa cifra. Una volontà politica che risente anche delle elezioni americane, il repubblicano Donald Trump è inflessibile sul burden sharing, tanto da aver proposto di buttare fuori dall'alleanza atlantica i paesi che non spendono il 2%, ma magari ci buttassero fuori dalla Nato, ci risparmierebbero la fatica. Il vertice Nato dura fino a venerdì e l'Italia punta anche a un proprio rappresentante speciale per il sud del mondo. Per l'Ucraina ci saranno altre armi e la promessa di un percorso irreversibile di adesione alla Nato. Questa parola fa veramente paura. L'atmosfera è quella delle grandi crisi. Il presidente statunitense Joe Biden, supportato dalla Germania, vuole rendere meno vincolante il comunicato finale del summit, mentre la Francia e i paesi dell'Europa orientale spingono per avere una dichiarazione di impegno totale nei confronti di Kiev e quindi torna quell'irreversibile per quanto riguarda l'adesione di Kiev alla Nato, il che sarebbe veramente una follia e che sarebbe veramente uno sputo in faccia a Putin e che sarebbe una pietra tombale su qualsiasi tipo di trattativa. Secondo il Washington Post, la Casa Bianca vorrebbe che il comunicato non contenesse irreversibile, ma un impegno più generico formulato in Bridge to Nato. Il consigliere per la sicurezza nazionale, Jake Sullivan, ha negoziato con il capo di gabinetto di Zelensky, Andri Yermark. Il risultato potrebbe essere un impegno forte dell'alleanza, ma a fronte di profonda attività operata da Kiev contro la corruzione e per il buon governo. Quindi irreversibile, ma con un sé. L'intensità degli scontri al fronte non sembra presagire un cessate il fuoco. Quest'anno la Russia produrrà il triplo delle munizioni di quelle confezionate da Stati Uniti ed Europa e ha un costo minore, in più i soldi che arriveranno da altri paesi alleati, come ad esempio la Corea del Nord. Questo spinge un nuovo pacchetto di armamenti da mandare al fronte. Nulla è ancora confermato, ma nella lista ci dovrebbero essere nuovi sistemi Patriot e i primi F-16, anche se i russi stanno distruggendo sistematicamente tutti gli aeroporti ucraini. Sul vertice pesano altri due problemi, la possibile reelezione di Trump e i rapporti con Pechino. Oggi la Cina, spiega Benedetta Berti, direttrice della pianificazione politica della Nato, è il principale promotore della guerra in Ucraina, con la fornitura di componenti alla Russia. La Cina ha un esercito di oltre 2 milioni di soldati, 600 mila in più degli Stati Uniti, e produce armi a una velocità superiore di Washington. Il compito della Nato è preservare la pace, fornendo una credibile deterrenza. La spesa per la difesa o aumenterà, ha detto Stoltenberg, del podio del forum dell'azienda della difesa, che già stanno belle apparecchiate a tavola con il bavaiolo ben allacciato. Interessante riguardo al ruolo dell'Italia anche il tentativo di diserzione di un pilota russo e il tentativo di dirottare in occidente un bombardiere strategico TU-22M3, che poi è fallito perché i russi se ne sono accorti. Avevano promesso 3 milioni al pilota e in più questa cosa qui che è circolata a Anpassan, ma nessuno l'ha presa in considerazione, la cittadinanza italiana. Io credo che il governo italiano dovrebbe riferire in merito a questa promessa che era stata fatta al pilota russo, vale a dire se la promessa c'era, era reale, cioè se effettivamente c'era a disposizione un passaporto italiano per questo pilota, oppure se si tratta di un'invenzione. Invece il governo italiano ha scelto di tacere, di non dire nulla, in merito a questa notizia che secondo me è una notizia veramente, veramente rilevante. Chiudiamo con l'articolo di piccole note che ben sintetizza tre notizie, ovvero quella riguardante l'attacco russo su Kiev, nel quale è stato colpito l'ospedale pediatrico, il vertice della Nato, e il viaggio di Modi, l'incontro tra il presidente indiano e il presidente russo. Eccolo qua, alla vigilia del vertice Nato, Modi va dall'amico Putin, ma il missile conteso che colpisce l'ospedale pediatrico oscura la notizia e, aggiungo io, rinfocola la propaganda. Leggiamo da piccole note, le notizie di un bombardamento sull'Ucraina, 19 morti e oltre 80 feriti, bilancio provvisorio, ha fatto il giro del mondo, soprattutto per il missile caduto sull'ospedale pediatrico, notizia alla quale si è dato più spazio che non a tutti gli ospedali di Gaza bombardati messi assieme. La strage è stata attribuita ai russi, i quali a loro volta hanno dichiarato che non bombardano obiettivi civili e che quanto avvenuto si deve ai sistemi di intercettazione ucraini. A confermare, la versione russa potrebbe essere quanto si è registrato in oltre due anni di guerra, nei quali i target dei loro ordini sono stati di natura militare o infrastrutturale. Quanto agli ucraini, la loro propensione a attribuire ai russi più del dovuto è notoria, dal missile russo, tra virgolette, caduto in Polonia, che poi si è scoperto essere ucraino, all'abbattimento del volo che trasportava i prigionieri ucraini, attribuito mendacemente alla contraerea di Mosca e tanto altro ancora. Se poi volete seguire il link di piccole note, troverete un elenco di tutti i casi in cui la propaganda ucraina ha attribuito morti ai russi. Morti che ci sono stati, ma che sono state, ma che sono state di gran lunga ridotte, soprattutto se si paragona alla mattanza che sta avvenendo in Palestina e che non accenna a cessare. Ne parleremo domani di questo. The Lancet stima in 186 mila i morti a Gaza. C'è una cifra colossale, una cifra veramente enorme. Per il momento le cifre ufficiali si aggirano intorno ai 50 mila con un enorme numero di donne e bambini. Eppure, se viene colpito un ospedale piediatrico a Kiev, tutti si fingono vergini violate. Ed è inutile ricordare, continuo all'articolo di piccole note, che mentre i morti civili ucraini fanno notizia, i civili russi che cadono sotto i bombardamenti indiscriminati di Kiev nel Donbass o a Belgorod non sono neanche registrati. Come è inutile ricordare che allo strazio della leadership occidentale per il missile che ha colpito l'ospedale pediatrico, due bambini uccisi non corrisponde a un'analoga tristezza per le bombe americane che ogni giorno fanno strame di bambini a Gaza. Quanto alla guerra di immagini sul missile che ha colpito l'ospedale, in una guerra di manipolazione come questa e in epoca di intelligenza artificiale, è possibile fare tutto e il contrario di tutto. Resta il video ripreso da un cittadino ucraino, il confronto tra la sagoma del missile inquadrato con quella di un missile lanciato da una batteria Nasams e quella di un KH-101 russo usati nell'attacco generale, oltre alle foto e delle descrizioni in cirillico su Rottami e Anneliti che secondo Kiev inchioderebbero Mosca. Qui c'è stato un rimpallo, io in questi giorni ho letto di tutto e di più, sinceramente non me la sento di pronunciarmi su di chi sia il missile che ha colpito l'ospedale pediatrico. Quello che faccio io è, mi limito a notare che questo missile è caduto in un momento veramente particolare, ovvero mentre c'è la visita di Modi in Russia e mentre è in atto il vertice della Nato a Washington. Quindi come sempre c'è stata una precisione chirurgica nell'evento e questo mi fa sempre riflettere e mi fa pensare alla frase del film The Counselor in cui un mafioso dice non è che i miei cari un narcotrafficante, non è che i miei cari non credano alle coincidenze, è soltanto che non hanno mai vista una. E questi fatti mi fanno sempre pensare a questa frase. Se prestiamo attenzione a quanto avvenuto non è tanto per scrivere tale ovvietà quanto per rivedenziare altro. Da tempo in questo conflitto non si registrava un evento tanto lesivo dell'immagine di Mosca. Così a spiegare l'accaduto potrebbe contribuire un titolo di strana news. Il giorno dell'attacco missilistico all'Ucraina il primo ministro indiano è andato da Putin e lo ha definito amico. Già nel giorno della strage Putin inanellava un successo geopolitico di rilevanza primaria non solo per la visita in sé ma perché la decisione del presidente indiano di recarsi a Mosca subito dopo la rielezione è un chiaro messaggio all'Occidente. Le immagini dei bambini insanguinati hanno scurato tale successo, altro motivo per cui l'esercito russo si sarebbe guardato bene dal compiere l'eccidio. Ma tant'è. Sul punto appare significativo un titolo del Washington Post che mette in relazione la visa di Modi con quella contemporanea di Orban, già reduce da Mosca a Pechino. Con Orban in Cina e Modi in Russia il mondo multipolare di Putin prende forma. Bloccale tale sviluppo è fondamentale per le aristocrazie dell'Occidente. Significativo peraltro verso un cenno del New York Times. Gli attacchi sono avvenuti il giorno prima dell'incontro programmato dei leader della Nata Washington nel quale si dovrebbero annunciare nuove decisioni per rafforzare le difese aeree dell'Ucraina. La guerra dalla Russia fino all'ultimo ucraino richiede sacrifici e sacrifici umani. Tutto questo dà veramente molto da pensare più del balletto delle immagini. A me piacciono più i fatti e le connessioni piuttosto che cominciare a star lì con la lente di ingrandimento a guardare le alette dei missili se sono più larghe o meno larghe. All'escalation mediatica corrispondono nuove e più pericolose escalation nel teatro di guerra secondo il metodo usato finora per intensificare l'impegno NATO nel conflitto nella prospettiva di trasformarlo in una grande guerra europea. Anzitutto le pressioni per ampliare la portata dell'uso delle armi americane con la folle richiesta di Kiev di poter utilizzare gli Haimars a pieno regime, cioè fino a 300 km. Alla follia ucraina fa pandan quella della Polonia, da tempo pedina fondamentale in questo gioco al massacro. Di questi giorni l'accordo di sicurezza tra Varsavia e Kiev nel quale la prima Varsavia si impegna a formare una legione di volontari ucraini, rifugiatisi in Polonia, rinforzata da volontari provenienti da altri paesi dell'Unione Europea, in particolare dalle regioni baltiche. Polonia, Baltici, Romania, tutti questi paesi sono ampiamente finanziati dall'Unione Europea perché sono paesi fanatici, russofobici, con gli unici in tutta Europa in cui hanno delle opinioni pubbliche che sposerebbero qualsiasi politica antirussa, a differenza degli altri paesi dell'Europa, che invece vengono utilizzati per finanziare i russofobi. Anche qui abbiamo fenomeni di delocalizzazione, in questo caso, dei fanatici e le risorse vanno a finanziare i fanatici per fare in modo che facciano da traino per il resto dell'Europa. Un'iniziativa di piccolo capotaggio, ma che potrebbe rappresentare quella del trattato tra Varsavia e Kiev, ma che potrebbe rappresentare l'embrione, sotto altre e meno ufficiali spoglie, di quella coalizione dei volenterosi pagheggiata dal generale David Petreus all'inizio della guerra, quando ripropose per l'Ucraina lo schema adottato per l'invasione irachena. Petreus, amministratore delegato di Kekar, che si è pappato la rete fissa telefonica italiana. La nefasta sensazione è rafforzata da una clausola dell'accordo che, secondo l'ufficio di Zelensky, prevede che i polacchi possano impegnare la propria contraerea contro i missili e i droni russi, ovviamente dal proprio territorio. Di fatto, sarebbe un ingaggio diretto di un paese nato nel conflitto. I rischi che comporterebbe dalle sviluppo aumentano esponenzialmente se si considera che la contraerea polacca potrebbe abbattere un aereo russo, possibilità tutt'altro che remota dal momento che fin dall'inizio della guerra i falchi americani ai quali si deve l'accordo Varsavia-Kiev avevano fatto pressioni per creare una nannuflai zone sui cieli ucraini. Quindi sono queste notizie che sembrano secondarie quelle che possono portare alle conseguenze peggiori. E questo è avvenuto sempre, tutta quella deriva neoliberista ai nostri paesi è venuta, notizietta dopo notizietta, leggina dopo leggina, trattatino dopo trattatino. Quanto alla guerra attuale, la Russia, oltre a incrementare di giorno in giorno i suoi guadagni territoriali, negli ultimi tempi ha preso di mira le basi aeree, deprimendo le speranze riposte dalla Nato dall'arrivo sul campo di battaglia dell'ultima arma magica, gli F-16, mentre in parallelo martella la rete elettrica, causando non pochi problemi alla parte avversa. Il 7 giugno, scrive Andrew Cockburn su Spoils of War, il primo ministro Dennis Schimiel ha annunciato che quasi tre quarti delle centrali termoelettriche del paese sono fuori uso e che 42 centrali elettriche sono state distrutte, mentre altre 20 centrali idroelettriche sono state danneggiate. Quindi vediamo che i russi continuano a martellare, uccidono soldati su soldati e questo è il loro primo obiettivo, soprattutto i mercenari stranieri, distruggono gli armamenti e distruggono le reti elettriche ucraine. Veramente la situazione per l'Ucraina è catastrofica e lo dice anche l'ultima dichiarazione di intervista del ex consigliere di Silensky, Arestovich, eccola qua, l'ho presa dal canale Telegram di Francesco Dallaio. Venendo invece a cose più ucraine, ci sono da segnalare le ultime esternazioni di Arestovich che vanno sempre seguite con attenzione pur depurandole dal suo verchio. In questo post il nostro, come al solito, parla fuori dai denti. L'attacco russo, l'ultimo a Kiev, è stato dimostrativo ed è volto a mantenere una posizione di forza nei negoziati. Non importa, dice sempre Arestovich, quanta assistenza militare sarà trasferita dalla Nato, la Russia dimostra che può colpire ovunque in Ucraina, che l'Occidente non può proteggerci. Non solo, il principale vantaggio della Russia è la sua razionalità e la capacità di giocare a lungo termine e ci volessero anche 300 anni, alla fine otterrà quello che vuole. Lottando fino alla fine, conclude, noi perderemo popolazione, installazione energetica e potenzialità economica e manderemo il paese in rovina. Quindi bisogna, per quanto doloroso, avviare dei negoziati e perseguire una politica razionale, è la parola che ha ripetuto più spesso in tutto il post, basata esclusivamente sull'interesse ucraino e non sulle illusioni che ci stiamo facendo. Quindi parole molto sagge, purtroppo inascoltate, tant'è che è un ex consigliere. Quindi per oggi è tutto, chiudo a questa lunghissima, ennesima puntata di Teleragione, ma secondo me ci sono notizie veramente importanti che vanno messe in fila, tralasciarle o poi darle scollegate da tutte le altre, secondo me fa sì che vengano depotenziate. Domani parleremo di Israele, ho messo da parte diversi articoli in questi giorni, quindi faremo una puntata corposa su quello che sta succedendo ultimamente in Palestina, i continui crimini di Israele, quindi vi do appuntamento a domani, vi ringrazio e come sempre vi invito a sostenere questo programma, a sostenere Visione TV, perché solo grazie alle vostre donazioni se noi possiamo continuare a fare il nostro lavoro e a farlo con la continuità e la precisione che un po' ci contraddistingue e che rende queste trasmissioni molto amate dal pubblico. Io vi ringrazio, ringrazio tutti i donatori perché veramente è soltanto per merito loro se noi riusciamo a fare bene il nostro lavoro. Appuntamento a domani, un saluto a tutti.